Potremmo dare inizio alla tavola rotonda che, come vi anticipavo, sarà su due argomenti. Il primo verrà introdotto da me e riguarda l'insegnamento del liuto online e poi il secondo da Tiziano Bagnati. Il mio non è assolutamente ovviamente un intervento musicologico, è proprio solo una serie di osservazioni sintetiche che mi sono trovata a fare dopo questi mesi di insegnamento online più o meno obbligato che un po' tutti ci siamo trovati a fronteggiare. Naturalmente per molti di noi è stato un modo di insegnare nuovo questo. Qualcuno forse in parte c'era già abituato e in ogni caso non affronterò qui gli aspetti tecnologici della questione perché gli aspetti di base li abbiamo già incrociati e in qualche modo risolti un po' tutti e quelli più complessi e sofisticati sono assolutamente al di fuori delle mie capacità, non mi occupo di questo tipo di argomenti. Invece mi sembrano decisamente interessanti certi aspetti didattici che implicano la comunicazione in generale e anche certi aspetti psicologici dell'insegnamento di uno strumento musicale online, ovviamente nel nostro caso dell'iuto. E vorrei un attimo soffermarmi su questi. Per esempio il fatto che il maestro e allievo si trovino in una posizione anche visiva diversa da quella della lezione ordinaria in presenza. Io per esempio, ma penso come molti altri, quando faccio lezione in presenza mi posiziono di fianco all'allievo, usiamo entrambi uno stesso leggio e appunto si fa lezione lavorando sullo stesso spartito, sulla stessa intavolatura. Invece con le lezioni online ci siamo trovati a essere uno di fronte all'altro, maestro e allievo. Questo fatto mi sembra che importi l'allievo a essere meno evasivo di fronte ai propri problemi e alle difficoltà che incontra. Naturalmente, per esempio, dopo i primissimi esperimenti di lezione online, dato che, come sappiamo, l'audio può essere molto scadente, soprattutto in certi frangenti, in certe situazioni, ho pensato di integrare le lezioni facendomi inviare dagli studenti delle registrazioni dei brani man mano che li studiavano, che è una cosa che a volte si fa, però quando si insegna in presenza magari si limita questo aspetto a momenti salienti del percorso di un allievo e non lo si effettua in continuazione o regolarmente. E quindi anche il fatto di avere aggiunto delle registrazioni fornite dall'allievo fa sì che l'allievo ovviamente si riascolti anche e sia costretto ad essere più obiettivo con se stesso. È come se appunto fosse più spesso obbligato a essere allo specchio, allo specchio musicalmente, e quindi si trova più pronto, più obbligato, ma anche più rapido a essere pronto a migliorare gli aspetti non ancora soddisfacenti insieme all'insegnante. Poi un altro aspetto positivo dell'insegnare online è che per esempio io ho diversi allievi anche giovanissimi, neovari dell'età di 13-14 anni e i primi tempi naturalmente quando si insegna la tendenza è di, molte volte anche quando si affretta, l'insegnante accorda lo strumento dell'allievo. Invece in questa situazione nuova l'allievo, gli allievi sono stati costretti a imparare rapidamente a accordare il proprio strumento da soli con o senza un accordatore ma comunque a risolvere, a trovare delle soluzioni al problema dell'accordatura del proprio strumento e quindi a affinare l'orecchio e anche a sapere sbrigare alcune questioni pratiche dei piroli che non girano, eccetera. Qualche allievo addirittura ha anche imparato a cambiare i tasti, per esempio. però al di là di questo aspetto dell'accordatura di cui ci saremmo accorti in tanti che riguarda invece il docente il fatto che il maestro veda l'allievo con un'inquadratura ristretta cioè circoscritta giusto il minimo per vedere lo studente e il liuto significa anche che non c'è dispersione visiva e non c'è dispersione di intenzioni non c'è la stanza non ci sono i rumori di fondo sì, ci può essere il rumore della connessione i disturbi della connessione, questo sì però questa inquadratura circoscritta porta a una grande concentrazione sul lavoro svolto e inoltre una cosa che trovo stimolante è che questo assomiglia molto alla forma musicale di produzione musicale più diffusa oggi cioè quella dei video musicali passare la comunicazione musicale in questa inquadratura circoscritta anche in questo caso porta a una grande concentrazione per cui questa figurina tra virgolette figurina ritagliata dell'allievo che esce dallo schermo intanto porta a rilevare molto meglio con maggiore rapidità e con più facilità tanti errori di postura di impostazione, di tecnica delle mani e addirittura anche il fatto che il suono in sé non sia pulito ma sia a volte distorto a volte frammentario nella trasmissione online fa sì che certi aspetti possano essere rilevati più facilmente per esempio la staticità nel modo di suonare o la pesantezza di un andamento del condurre la frase musicale o anche proprio le incongruenze del fraseggio risultano secondo me più evidenti sentite così che non in presenza ed è anche più facile proporre le modifiche e i suggerimenti allo studente e quasi ci si sente più più tenuti più costretti a farlo più invogliati anche a trovare delle soluzioni fattive insomma a questi problemi addirittura se voi ci pensate quando si è in sala di registrazione questo avviene soprattutto nell'ambito del pop ma a volte anche della musica classica una volta che si è finita la registrazione e ascoltata con i mezzi più sofisticati e seguito tutti i dettagli di una registrazione un passaggio ulteriore che si fa è quello di sentire la registrazione ascoltata tramite un apparecchio molto scadente un vecchio registratore o qualcosa del genere cioè un apparecchio di trasmissione del suono molto limitato e questo però fa sì che diventi palese immediata l'essenza della comunicazione musicale il suo essere convincente in un certo senso secondo me questo avviene anche nelle lezioni online proprio il fatto che l'audio non sia quello migliore porta a rilevare con più facilità quale sia l'essenza della comunicazione musicale che l'allievo sta trasmettendo quindi a rilevare cosa funzioni e cosa non funzioni ecco allora dopo queste mie osservazioni probabilmente potreste pensare che i casi siano due o io ho una connessione e un'attrezzatura informatica straordinaria e possa sentire chissà che cosa oppure che io sono un inguaribile ottimista allora io penso che in realtà non sia nessuna di queste due cose però lascio il dubbio e rilancio l'argomento a voi per fare degli interventi credo che anche voi abbiate cioè tutti abbiano delle esperienze abbiano avuto in questo anno delle esperienze interessanti da condividere in questo senso Francesca se vuoi intervengo intervengo io sì prego Diego allora condivido naturalmente tutto quello che hai detto credo che appunto il problema principale che è un problema che si sente soprattutto nei nostri strumenti sia stato quello della qualità dei mezzi che ognuno aveva prima ancora che della connessione dei mezzi come un microfono una telecamera eccetera che i singoli allievi avevano a disposizione io sono fortunato tutti allievi abbastanza adulti e devo dirvi ho fatti attrezzare con un minimo di apparecchi che permettessero una connessione che permettessero una qualità del suono e del video almeno decorosi qualcuno di loro addirittura Angela per esempio che era qua ha cambiato la tipologia di connessione questo è un problema perché chi non abita in città spesso ha avuto problemi di questo tipo una diciamo volendo trovare un aspetto positivo devo dire che questo io l'ho trovato principalmente nelle lezioni teoriche per esempio io quest'anno sono riuscito per la prima volta a fare un corso un po' più sistematico del solito sulla cordatura e sui temperamenti che ho sempre fatto non dico in maniera superficiale però in maniera forse un po' pratica forse non risolvendo io stesso prima dei dubbi che ho sempre avuto soprattutto sulla parte più matematica degli aspetti e non approfondendo poi quella che è stata di questo corso l'ultima parte cioè le divisioni storiche della tastiera degli Uto e ho visto che facendo questo corso a distanza adattandolo molto anche alle ore ai momenti in cui tutti gli allievi erano disponibili questo sicuramente ha favorito un'organicità nell'esposizione dell'argomento che sicuramente in conservatorio non ho avuto anche perché spesso era difficile fare una lezione con tutti gli allievi presenti ecco questa è stata la mia esperienza bene grazie io effettivamente di corsi teorici online quest'anno non ne ho tenuti quindi non riesco a comparare questo tipo di esperienza e invece mi riferivo proprio alle lezioni individuali strumentali se posso prego Tiziano buongiorno a tutti salve no io fra l'altro effettivamente sei un ottimista ma è stato anche molto bello sentire questo taglio perché in una condizione di costrizione di difficoltà quale quelle in cui ci siamo trovati a vivere effettivamente ognuno credo abbia cercato di volgere al meglio la situazione per quanto riguarda le lezioni individuali io ho avuto parecchi problemi come tutti immagino per la qualità audio e quindi ho avviato con delle registrazioni fatte dagli studenti ascoltarle poi dopo singolarmente entrare nel merito dei vari problemi ma molto spesso con difficoltà di continuità a livello proprio della percezione se non fosse stata con questo sistema di una pre-registrazione invece mi collego con quello che diceva Diego ho avuto un riscontro molto favorevole per delle lezioni di basso continuo che a un certo punto anche io per necessità anziché che farle individuali eccetera eccetera l'ho fatta a 4-5 studenti contemporaneamente e il fatto di averli tutti in contemporanea su alcuni argomenti in particolare abbiamo trattato appunto le cadenze del terzo libro di Kapsberger per il manoscritto Jock 93-2 quello sulla Tiorba eccetera e vedere quindi chiedere a ogni studente di per esempio suonare un frammento magari in quel momento si sentiva bene poi subito un altro poi un altro un altro un altro ancora poi discutere insieme su chiaramente problematiche legate al sistema di scrittura perché erano intavolate così perché no dove poterle inserire in un contesto di quale musica eccetera questo è stato molto molto più produttivo che non in presenza perché c'è stata proprio come dire un livello attenzionale molto circoscritto magari non si evitava di fare lezioni molto lunghe però molto puntuali questo devo dire è stato per me anche una una sorpresa e quasi mi verrebbe voglia di ripeterla almeno come esperienza di gruppo perché c'è stato molto più dialogo molto più confronto e anche molta più non so come dire presa di coscienza anche dei limiti anche strumentali di tecnica che potevano avere uno studente piuttosto che un altro oppure sentire il compagno proprio che magari normalmente è in conservatorio mentre lui sta facendo lezioni e l'altro fa storia della musica quell'altro ha un altro impegno e così invece concentrarsi su questo è stato un aspetto positivo ecco sì certo immagino infatti condivido anch'io questo sì bene ci sono altri interventi potrei dire qualcosa se c'è tempo sì penso che abbiamo ancora un po' sì sì un pochino sì prego volentieri niente anch'io ho fatto qualche centinaia di ore su zoom da marzo l'anno scorso e la cosa per me era la cosa rivelante per me era quando ho cominciato a suonare gli stessi allievi dal vivo recentemente cioè da febbraio praticamente e ho capito che sul zoom sono riuscito a lavorare molto bene sulla musica cioè sull'interpretazione si poteva parlare della struttura musicale del proprio del tutti tutti aspetti dell'esecuzione musicale in sé però quando sono arrivati questi allievi dal vivo ho visto che invece la cosa proprio puramente tecniche sono rimasti molto indietro perché proprio sul zoom sia visuale perché quando suonano non riesci a vedere bene la mano spesso anche il visuale e l'audio non combaciano non si non si vede tante cose cioè è veramente difficile capire cosa stanno facendo realmente invece quando sei davanti alla persona vedi molto bene puoi vederlo da vari angoli e analizzare esattamente quello che stanno facendo secondo me questo è il grosso il grosso problema con le lezioni online cioè si riesce a lavorare su certe cose molto incannellato ma non c'è non c'è il quadro completo e infatti una volta io ho scridato un allievo su zoom perché proprio mi stava assordando facendo un suono forte grattato ho detto senti il luto ha i suoi limiti devi lavorare dentro l'ambito dello strumento non sempre al massimo allora quando è venuto a suonare a me suonare per me dal vivo suonava piano 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 non sentivo quasi niente ho detto perché stai suonando piano e lui mi ha detto mi hai detto di suonare piano prima stavo suonando normalmente e mi hai scridato perché proprio è falsificato completamente il suono cioè ognuno ha il microfono a un livello diverso ognuno cioè anch'io da volta in volta non c'è nessuna coerenza in questo aspetto perciò per me è veramente in generale è un'esperienza negativa tutt'liga non dico altro sì ho capito sì naturalmente non si riesce a lavorare sulla qualità del suono e forse neanche sulla quantità o perlomeno solo in parte certo quello sì io ho notato più che altro la difficoltà di lavorare sulla tecnica con i principianti perché certe cose a un principiante se non sei sul posto se non riesci magari a fargli vedere bene una mano a spostargli una mano non riesci a trasmettergliele online però invece con gli allievi medi o avanzati sì secondo me cioè si riesce a comunicare anche moltissime delle questioni tecnico interpretative certo ad esclusione appunto di nuovo di quelle della qualità che riguardano la qualità del suono ah sì scusate vedo che c'è un altro Dario che vuole vuole intervenire ah sì vedo adesso sì sì c'era Dario Pisasale che ha chiesto prego Dario allora salve a tutti mi sento toccato sul vivo su per questo argomento perché sono sia allievo che insegnante quindi ho vissuto la questione da entrambe eh da entrambi i lati e quindi come insegnante io insegno nelle scuole medie quindi ho dei ragazzini piccoli eh devo dire che il fare le lezioni online ha diciamo ha messo molto l'accento sulla disparità delle delle famiglie che stanno dietro per cui la difficoltà di avere le le attrezzature giuste o anche solo la connessione per per poter fare una lezione normale questo si è si è visto appunto nei mesi di lockdown che abbiamo avuto l'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno eh però eh devo dire che effettivamente il l'utilizzo per esempio della registrazione è una cosa che ho cominciato l'anno scorso e tuttora anche se facciamo le lezioni in presenza eh ho continuato a fare perché lo lo reputo un ottimo eh eh sistema di autovalutazione e quindi questa cosa diciamo è stata molto molto utile ma devo devo dire che esattamente come il maestro Bayer anch'io mi sono accorto di questa cosa qui che ovviamente la registrazione non sempre è fedele eh per esempio eh come il maestro Paul Bayer anch'io ho avuto un allievo che mi mandava delle registrazioni ottime però poi in presenza quasi non si sentiva poi ho capito perché lui suonava la sera e quindi per non disturbare tutta la famiglia eh suonava molto piano però poi quando si riascoltava sentiva che l'audio era perfetto e quindi mi mandava questi video allora ho dovuto spiegargli guarda che il microfono del cellulare che stai utilizzando per farti il video eh ovviamente in automatico aumenta la sensibilità il gain quando tu suoni molto piano per cui non ti devi mai basare sul volume che senti poi dal video quindi insomma eh è stato un momento anche per capire certe cose che riguardano la tecnologia e e tentare anche quindi di aggirarle in un certo modo perché appunto il problema è che se uno suona troppo forte col microfono troppo vicino poi il suono viene distorto se uno suona pianissimo il suono viene amplificato e quindi poi la registrazione risulta comunque normale e quindi questa cosa qui è stata utile anche da capire perché poi diciamo è un ottimo utilizzo il fatto di vedersi allo specchio e risentirsi però c'è sempre il problema del se lo specchio è distorto oppure oppure no quindi insomma devo dire che entrambe le posizioni del riuscire a focalizzare gli argomenti riuscire a visualizzare perfettamente alcuni aspetti sono stati molto positivi altri negativi proprio per il discorso della disparità di attrezzatura che un allievo può avere e anche il fatto di comunque avere un ritorno che non sempre è reale insomma di quello che uno sta facendo veramente mi fermo qui bene grazie allora passo la parola a Franco Pavanzi grazie mille trovo interessantissimo tutto quello che è stato detto anch'io ho avuto esperienze più o meno positive però c'è una cosa che vorremmo riprendere che ha messo bene in luce Francesca all'inizio e cioè che ci sono degli ambiti in cui svolgiamo la nostra attività e l'ambito principale è la scuola non tanto da un punto di vista sto parlando adesso del docente ma per quanto riguarda invece gli studenti cioè io credo che anch'io ho fatto lezioni online di materie teoriche parecchie sono come tutti noi e dello strumento ma che per loro questo sia stato estremamente negativo nel momento in cui magari si poteva fare anche in presenza diciamo cioè quello che intendo dire è che se noi lavoriamo attraverso uno schermo come in questo caso ci sono dei pro e dei contro nel caso invece della scuola io vedo quasi esclusivamente dei pro mi permetto di parlare per i ragazzi perché andare a scuola significa condividere significa stare insieme significa essere contenti essere preoccupati tutto quello che sappiamo e secondo me voglio dire la cosa che la grande sfida adesso è di capire come utilizzare questi mezzi Francesca l'ha detto molto bene prima cioè lei ha trovato un modo estremamente efficace di sfruttare il collegamento elettronico senza demonizzarli e di come riuscire a tornare a far vivere la scuola per quello che deve essere un ambiente non solo un modo di trasmettere o di ricevere le informazioni su questo secondo me bisogna bisogna riflettere ed è una bella sfida credo non so se mi sono spiegato gli effetti della vaccinazione cominciano a farsi sentire sì sì tutto chiaro e sono d'accordo certo appunto come commento diciamo contrario a quello che stavo sostenendo inizialmente posso aggiungere che poi non so in questi ultimi giorni quando si è parlato di fare nuovamente un saggio di classe dopo non so un anno un anno e mezzo quasi gli allievi lo sentivano l'hanno subito sentito come una cosa molto importante e quindi appunto l'essere il nuovo insieme riascoltarsi parlarsi è insostituibile questo su questo credo che nessuno di noi abbia dei dubbi bene mi pare che non ci siano altri interventi se c'è qualche qualche frase scritta sulla chat che potete vedere anche voi bene allora io direi che potremmo passare al secondo argomento e quindi dare la parola a Tiziano Bagnati prego Tiziano Francesca scusa scusa un attimo sì ciao Michele ciao scusate il ritardo mi potresti dire brevemente quali sono i vantaggi che hai trovato di questa online il fatto che gli allievi siano un po' diventino un po' come allo specchio e sentano l'esigenza di dare una risposta di trovare una risposta ai loro problemi senza essere suggenti nell'atteggiamento diciamo che questo avviene appunto ancora di più per il fatto che io come anche altri o forse tutti abbiamo aggiunto alle lezioni online la richiesta agli allievi di mandarci delle registrazioni in cui l'audio ovviamente era migliore però unendo questi due aspetti appunto lo studente si ascolta con più obiettività non è come durante la lezione in classe in cui qualcosa è più eterio sfuggente intangibile lì è proprio come una cartina di tornasole e sia l'allievo sia l'insegnante si sentono tenuti a trovare delle soluzioni più in fretta e più efficaci non so questo detto molto sinteticamente e addirittura appunto il suono non così pulito però aiuta a mettere in evidenza certi aspetti non so del fraseggio oppure l'allievo che ha il modo di suonare che ha ancora un ragazzino che ha il modo di suonare staccato con un'articolazione dei suoni inappropriata lo rilevi meglio è come se i difetti venissero amplificati certi tipi di difetti e quindi è più facile più istintivo trovare delle soluzioni ecco grazie mille prego bene allora mi permetto di continuare questa seconda parte della tavola rotonda e non nego una certa emozione anche soddisfazione diciamo nel vedere oggi realizzarsi per la terza volta ciò che nel 2018 era stato un sentito auspicio che cosa cioè nel 2018 a Venezia appunto c'è stato il primo convegno ricercare sul liuto degli studenti e dei docenti di liuto dei conservatori italiani questo è stata diciamo così un incipit un inizio di qualche cosa che poi dopo nel 2019 si è realizzato a Bari nel 2020 a Milano ma poi interrotto per via del Covid e oggi online diciamo un estratto un assaggio di questo però mi piacerebbe ma non lo farò per motivi chiaramente di tempo e di attenzione nel ripercorrere riguardavo prima magari ricondividerò ma tutti ce l'avete i programmi i manifesti degli interventi fatti sia a Venezia sia a Bari sia a Milano quelli che sarebbero stati fatti in tempi normali e devo dire che gli argomenti non solo per la loro varietà non solo per la distribuzione tra docenti e interventi di studenti e non solo per gli stimoli che sono seguiti a tutto questo cioè voglio dire alcuni di questi esempi interventi per esempio penso proprio prima è intervenuto Dario Pisasale aveva fatto questo lavoro su internet dette speranze porto celato del manoscritto del fondo Torre Franca dove c'erano degli esempi di Chiorba intavolata poi è stato pubblicato da Armelin sono nate cose così come per altre esperienze che abbiamo affrontato poi sono accadute e hanno avuto un proseguio nel tempo chiaramente non posso non citare e non ricordare il grande contributo che allora avevo appunto avuto dalla fondazione Levi tuttora nel sostenerci nel sostenere questa iniziativa concretamente sia nel favorire lo spostamento quindi di studenti da una città all'altra per poter seguire i convegni sia per quanto è restato poi il contributo per aprire questo sito di cui parlerò successivamente ricercare sul liuto che attualmente è efficace ed efficiente diciamo online e soprattutto la fondazione Levi si è posta come un interlocutore molto attivo per cercare di sostenere tutto quello che stava accadendo in seno alla didattica alla ricerca e in particolare proprio agliuto e questo prima nella figura della professoressa Zannoncelli direttore scientifico e adesso di Roberto Calabretto che è il direttore scientifico della fondazione chiaramente quello che io vorrei oggi si potesse anche se brevemente cercare di avere idee operative dei contributi in particolare da parte degli studenti per far sì che questo sito che attualmente è gestito come webmaster da Alvise Zanella un mio studente prima l'aveva fatto la progettazione del sito era nata con insieme a Diego Cantalupi poi si è interrotta questa collaborazione ed è proseguita diciamo recentemente in quest'altra veste come sapete più volte vi ho invitato e per fortuna è accaduto abbastanza abbastanza velocemente ma non potremmo migliorare in questo nel inviare le documentazioni relative allo stato di una classe diciamo quali sono gli studenti soprattutto quello che a me premi di più e non sono ancora riuscito a trovare qualcosa di fluido all'interno del sito è quello di pubblicare o quantomeno i titoli delle tesi già svolte e soprattutto quello che mi premerebbe di più è indicare all'interno di questo sito quelli che sono i progetti di ricerca dei nostri studenti per gli anni futuri questo vorrebbe dire che se per esempio io so che a Roma si sta facendo un certo lavoro con uno studente di Andrea o piuttosto che a Milano con un altro conservatorio gli stessi studenti sono nella possibilità di dialogare di avere informazioni di avere contatto con quello che sta accadendo con coetanei avendo come denominatore comune degli ambiti di lavoro che molto spesso solo attraverso il confronto come stiamo al dialogo come stiamo facendo noi adesso possano riuscire a trovare una loro collocazione anche proprio non solo didattica ma anche dei risultati dei contributi veramente che possono essere utili a tutti per esempio vorrei chiedere ma senza nessuna polemica ad esempio a Diego questi due lavori appunto di cui hai parlato prima di aiutami di due allievi tuoi Edward e Fabio per esempio sarebbe utilissimo che questi lavori fossero condivisi in qualche maniera così come anche lì io ho cercato di inserire le tesi già avvenute e poi anche parlando con Franco Pavane anche lui giustamente mi ha detto guarda Tiziano sarebbe veramente molto importante metterlo bene in evidenza come news non so quasi i futuri progetti quindi io quello che chiedo a voi è concretamente proprio di in maniera così dialogica cercare di trovare un sistema affinché questo sito non rimanga semplicemente una vetrina che è grazie alla società del iuto grazie prima alla Fondazione Levi è operativo quindi è già posizionato c'è una persona che si occupa di poter inserire dati con ovviamente anche lì potete immaginare un volontariato quindi ci possono essere tempistiche diverse però faccio con questo poi chiudo presente che attraverso soltanto stimoli di questo genere si riesce ad advenire a qualche cosa che poi effettivamente risulta essere utile perché dico questo per esempio e poi invito chiaramente anche Vangelina Mascardi a intervenire su uno dei progetti che abbiamo nuovamente avviato e che sono quello di una registrazione da parte dei migliori allievi dei migliori delle persone che hanno aderito per un cd che verrà a questo punto registrato da Alessandria in ottobre e quindi le cose si sono mosse le è riuscita ad avere questo spazio ci ha annunciato che ci sarà una lettera da parte del direttore per rivolto ai nostri direttori dei conservatori per cercare di trovare qualche finanziamento almeno per gli spostamenti dei viaggi degli studenti cioè io credo che tutta una serie di iniziative questa è una e dopo la svilupperà Evanghelina così come per esempio un'altra esigenza che era nata in un'assemblea della società dell'Iuto a Bologna molto sentita era quella della didattica della didattica anche per i bambini per i ragazzi quindi nelle scuole quindi anche noi non so voi nei vostri conservatori però c'è una grande carenza di iscrizioni da parte di ragazzi che provengono dalle scuole del medio dalle scuole dai licei perché perché i nostri strumenti non sono rappresentativi a Venezia per qualche anno ero riuscito ad avere un mio studente che è andato diplomato a insegnare nel liceo musicale ma poi la cosa si è interrotta però adesso per esempio sta nascendo un progetto dove noi docenti di giardagamba gli uto fra altri strumenti di musica antica andranno nelle scuole del territorio del Veneto per fare degli esperimenti di 6-7 lezioni sullo strumento e poi a Natale questi giovani diciamo ragazzi che avranno suonato fatto soltanto piccole piccole esperienze cercheranno di suonare insieme e qui butto un altro sassolino rispetto al fatto appunto che ci potranno essere magari degli utai come so già che ci sono in centro Italia nel Veneto fra altre parti che magari sono disponibili a costruire degli studenti degli uti e poi ad affittarli quindi a chi ha eventualmente strutture a scuole piuttosto che a singole persone che effettivamente sarebbero molto avvantaggiate da poter sperimentare concretamente questo tipo di prassi appunto quindi chiaramente adesso ho come dire l'invito è quello di cercare di essere anche attraverso solo una mail mandata a ricercare sul liuto dei contributi operativi per far sì che questo strumento che noi abbiamo possa diventare effettivamente uno strumento agile non impegnativo per poter comunicare anche quello che facciamo nei singoli conservatori quindi sapere che quell'iniziativa è stata presa nel conservatorio X o Y e che uno può evidentemente attraverso queste informazioni poter relazionarsi saluto bene non so se ci sia appunto Evangelina che vuole presentare l'iniziativa del conservatorio di Alessandria sì buonasera a tutti ciao a tutti bentrovati allora ecco questa idea di di condividere un po' di essere in contatto che mi sembra ottima e racconto la mia esperienza personale perché diciamo sono interessata a fare questo perché ho il bellissimo ricordo quando io studiavo adolescente studiavo chitarra in Argentina dove eravamo quei 30 35 ragazzi 40 che ci vedevamo sempre ai corsi dagli utai alle masterclass insomma la generazione che cresceva insieme da diverse classi ognuno con il suo strumento ognuno con la sua chitarra con la sua tecnica con il suo repertorio e si condivideva insomma appunto si scambiavano queste conoscenze da tanti punti di vista e penso che sia una cosa molto molto buona no? creare una generazione di ragazzi che diventeranno gli utisti nei prossimi 5-10 anni che possano condividere i nostri approcci nel miglior modo possibile allora come prima iniziativa ho pensato di fare questa registrazione con diciamo con gli allievi che fossero preparati migliori non lo so ma quelli che sono meglio preparati dopo appunto questi questi mesi di pandemia e il conservatorio ad Alessandria è accolto molto positivamente c'è una data il 4 ottobre e ci sarà un'ora abbondante per penso che sono non mi ricordo sono sette interventi non mi ricordo e appunto è in arrivo perché è stata protocollata qualche giorno fa la lettera diciamo di ufficializzazione di questa manifestazione che arriverà ai conservatori ai vostri conservatori per eventuali richieste di sostegno appunto chi viene da lontano chi c'è un ragazzo che viene da Frosinone forse per per il viaggio quello che sia in concomitanza completamente casuale con questa giornata ci sarà anche una masterclass di Hopkinson Smith dal 4 al 7 anche in conservatorio cioè dove i ragazzi potranno poi sentire o partecipare questo si vedrà e anche voi siete ovviamente invitati a seguire la registrazione dei ragazzi che verrà fatta da un tecnico invitato appositamente il tecnico di Milano che farà la videoregistrazione cioè in qualità audio e video ottima da tutti i punti di vista professionale e questo diciamo è il mio primo augurio di lavoro insieme l'idea sarebbe che questa manifestazione girasse nei conservatori in ogni conservatorio diciamo si potesse fare una cosa del genere una volta all'anno e per l'anno prossimo sperando di poterci vedere dal vivo come sembra che sta piano piano succedendo vorrei creare anche un network di concerti di liuto cioè di piccole sale di fare dei circoli del liuto circoli delle corde pizzicate poi vedremo come in modo di far girare anche i nostri ragazzi delle nostre città magari un piccolo concerto a Torino il primo anno siamo in quindici il secondo in venti il terzo il quinto siamo in cento persone e così piano piano rigenerare il tessuto di pubblico e di anche di allievi eccetera eccetera e appunto ognuno nella sua città può essere Alessandria Milano Venezia fare una piccola tournée venerdì e sabato sera di questi ragazzi che suonano secondo me al mio punto di vista sarebbe cercherò di farlo per l'anno prossimo e niente però è il momento e queste sono le novità da qui questo è il mio cane ecco va bene grazie Angelina sì ottimo allora io ripasso la parola a Tiziano appunto sempre su questo argomento ma appunto io forse avrei piacere che se ci fossero degli studenti oppure a altre voci di altri colleghi che possano in qualche maniera così anche capire come è stato vissuto diciamo questa anche questa globale iniziativa di presente fino a questo momento abbiamo avuto convegni ogni anno almeno da un punto di vista progettuale al di là del covid che c'è stato che ha rimandato questo quindi io mi auguro veramente che si possa replicare a Milano dal vivo nonostante gli sforzi organizzativi enormi di Francesca che poi ha dovuto spostare 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 però poi dopo avevamo cercato di pensare già anche poi a Bologna successivamente cercare anche lì probabilmente di migliorare nella non so come dire anche nella formulazione dei programmi stessi e degli argomenti trattati ma tutto questo io credo da quando è nato è stato fatto principalmente a parte per noi docenti per poterci finalmente vedere anche proprio fisicamente o visivamente ma per gli studenti quindi mi piacerebbe molto che si creasse un circuito virtuoso proprio tra di loro affinché nasca un confronto e quindi anche dei correttivi per esempio io non sono per nulla bravo nelle cose tecnologiche come diciamo un po' fa parte forse della nostra generazione un po' imparo ma io vedo che tantissime volte appunto gli studenti stessi sono molto molto abili sia nel fare i video sia nel progettare certe cose iniziative quindi secondo me se venissero in qualche maniera responsabilizzati anche su questi settori io ho visto che si ottengono degli risultati ottimi no? quindi vorrei sentire un po' anche la loro voce se non questa sera comunque sul sito e per avere proprio suggerimenti su come renderlo diciamo più produttivo ecco sì bene se sono presenti i studenti io li inviterei cioè noi li stiamo invitando anche già ora a fare delle osservazioni o delle richieste o a farci capire meglio di che cosa sentirebbero l'esigenza riguardo appunto al al conoscere le altre iniziative al ritrovarsi al poter ideare delle iniziative comuni e anche a cosa ne pensano riguardo un'idea che ha accennato Evangelina cioè una serie di concerti per gli studenti così come adesso appunto è stata avviata quella della registrazione discografica posso dire una cosa nella tesi anzi due cose allora per quello che riguarda il sito sì Tiziano condivido assolutamente che una delle prime cose da fare sia un elenco delle tesi fatte e probabilmente un anche un elenco delle tesi che sono in lavorazione questo sia per evitare doppioni sia perché possono essere una bibliografia interessante per gli altri per esempio Angela la calamita sta facendo la mia allieva sta facendo una tesi che credo di poter definire abbastanza monumentale cioè sta facendo un'edizione leggibile di uno dei due volumi di Valentini quelli editi da Spess che tutti conosciamo ma sono scritti talmente piccoli che veramente rasentano l'illegibilità un altro mio allievo che si lavorerà a settembre sta facendo le edizioni di queste sonate di Shikard per chitarre basso continuo che stanno nei manoscritti di Diesel per evitare doppioni credo che veramente semplicemente il titolo e magari una mail di contatto dell'allievo sia delle tesi già fatte che quelle in divenire potrebbe essere una cosa utilissima come mai come mai non è avvenuto fino adesso questo da parte tua no in realtà è una cosa di 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 lavorazione io non ho non ho visto sul sito una sezione con l'elenco delle tesi svolate no 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 non c'è un elenco c'è per ogni docente ad esempio ho elencato alcune tesi e quelle che cioè mi è mancato un po' non so per quale motivo questo travaso diciamo di questi esempi informazioni utilissime anche preziose no che io aprendo adesso in diretta ma non ho mai per mancanza fondamentalmente perché per mancanza di tempo è una cosa che io posso fare abbastanza rapidamente una volta che ho chiesto ai miei allievi la loro volontà di comunicare questa cosa l'altra cosa che penso potrebbe essere utile è effettivamente un incontro tra gli allievi con zoom perché secondo me un incontro fisico io parlo almeno per i miei allievi che abitano che forse sono assieme a quelli di Michele Carreca quelli che abitano più lontano organizzare un incontro in presenza è veramente molto complicato molto oneroso oltretutto tutti lavorano quindi forse questo può essere un approccio che funziona un incontro a distanza dedicato senza un tema particolare dedicato agli allievi magari parlando delle loro tesi non so tre appuntamenti l'anno quattro appuntamenti l'anno in un momento che può far comodo a tutti nel weekend o alla sera ecco ci sono un paio di richieste di interventi quindi Franco Pavan e poi Franco Fois oppure no il contrario c'è prima Franco Fois anche se chiamiamo Franco tutti e due c'è prima lui allora Franco Fois siamo franchi allora no velocissimamente da quel che si è detto la parola chiave è condivisione così come già Evangelina parlava di condivisione nel momento in cui il maestro entra in classe anche la condivisione tra vari allievi e tra i vari insegnanti però per far uscire dalla retorica questa parola bisogna pure fare qualcosa e il sito per esempio mi sembra un'ottima iniziativa pratica che può in qualche modo dare inizio capisco che come diceva Diego magari non c'è tempo per fare delle cose ma probabilmente non è la sola motivazione c'è anche una certa un certo ritegno reticenza forse anche un po' di timore del giudizio nel momento in cui si tratta di mettere a disposizione dei contenuti frutto della propria elaborazione o dell'elaborazione dei propri allievi però dico degli strumenti ci sono e il coordinamento dei conservatori insieme alla società degli uto ne ha già individuato alcuni usiamoli sì Franco Pavan sì allora io sono molto d'accordo con quello che ha detto Tiziano e lui sa che io ho già fatto mea culpa più volte con lui perché mi ha cercato una quantità di volte vabbè ma a parte appunto la retorica di cui parlava il mio omonimo che è reale cioè sono cose che bisogna mettere sul piatto è vero è vero cioè ci sono molti motivi per cui spesso che vanno dal personale al invece come dire come diceva Franco Foyce a questioni più legate a reticenze non dichiarate ecco detto questo io sono disponibilissimo a condividere tutto il possibile e dico anche che l'iniziativa di Evanghelina è vostra insomma anche con te Tiziano è fantastica cioè questa idea di mettere in comunione diciamo i ragazzi è fondamentale aggiungo una piccola cosa e cioè che proprio la settimana anzi questa settimana scusatemi è stata posta una pietra di inciampo per Ugo Sesini che è stato uno dei nostri più grandi musicologi del novecento e anche musicisti è assassinato a Mauthausen e ho parlato col nipote e il nipote è intenzionato a sostenere l'attività di studenti meritevoli che si occupino dell'ambito del periodo su cui lavorava Sesini cioè che era dal gregoriano diciamo al cinquecento allora anche da questo punto di vista questo tipo di supporto può andare nella direzione se riusciamo a sottrarlo agli altri inutili strumenti della musica antica e a supporto dell'iuto e anche a queste iniziative di cui parlava Evangelina cioè di fare circolare i ragazzi io sono sono molto disponibile e spero che Tiziano non mi picchi la prossima volta che ci vediamo secondo me sì però insomma ecco Tiziano non so se vuoi riprendere la parola per concludere ma io sinceramente penso di aver detto quello che dovevo dire volevo dire e comunque vorrei ringraziare tutti per comunque per anche solo per questa giornata e in particolare ringraziare te Francesca per l'onere che ti sei preso perché comunque è un impegno cercare di coordinare tutte queste iniziative e l'auspicio ripeto è prestissimo di poterlo fare in presenza a Milano e magari appunto avere anche l'accortezza poi anche per le cose passate sono un po' anche io responsabile ho raccolto gli abstract per esempio in parte della prima edizione che però non è sempre anche lì non essendoci tutti gli interventi fatti ne ho soltanto 4 o 5 poi io stesso non ho dato quelli perché aspettavo gli altri poi mi sono dimenticato poi dopo è la stessa cosa per Bari che è stata un'esperienza meravigliosa proprio veramente stimolante per tutti per gli studenti ancora forse più di Venezia io credo proprio che si possa arrivare a trovare un equilibrio proprio un equilibrio sia organizzativo sia propositivo in maniera di piccole cose ogni anno non troppe tra le quali queste secondo me ottime incontri anche via Zoom che però almeno hanno il vantaggio di metterci tutti insieme in un istante e di essere per così dire condivisi in maniera puntuale ecco io quindi saluto tutti e alla prossima speriamo dal vivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti